Sapreste capire la differenza tra una fotografia scattata con un'ammiraglia di casa Canon e una fotografia scattata con un drone della DJI per esempio? Nel corso di questo video lo scopriremo insieme. Andremo a esaminare delle fotografie che mi sono state mandate da uno di voi. Vi ricordo che il metodo per mandarmela è sempre lo stesso, ovvero messaggio privato su Instagram con un link che non scade. Quindi Amazon Photos o Google Drive prevalentemente. Nel corso di questo video analizzeremo le immagini e io vi dirò secondo me se si poteva fare qualcosa di meglio oppure se le immagini mi soddisfano. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e mi occupo di fotografia per mestiere. Per cui nel corso di questi video vi do il mio parere sulle vostre fotografie che voi mi sottoponete in maniera tale che vadano a beneficio di tutti e che possiamo cercare di migliorare insieme e portare avanti la nostra passione per il mondo dell'immagine. Io direi andiamo subito a incominciare. Oggi vi faccio vedere questo portfolio che sembra prevalentemente naturalistico per cui credo che ci sarà anche da divertirsi e terremo aperti i metadati per vedere con cosa sono state scattate le immagini. Prima di cominciare però ricordo a tutti quanti di iscriversi al mio canale cliccando il bottone qui sotto perché tantissimi che guardano i miei video anche di frequente e li commentano pure non sono ancora iscritti. Questo è un peccato sia per voi che così magari vi perdete qualche puntata sia per me perché così io faccio fatica a sapere qual è la reale dimensione della community. Per cui il bottone è qui sotto, andate a spolliciare. Partiamo dalla prima fotografia. Come voi sapete io sono amante della montagna quindi un paesaggio di questo tipo a me già piace. Sicuramente la critica più facile che si può fare a una fotografia come questa è che risulta un po' piatta ma è proprio una caratteristica di questo tipo di paesaggio quindi non me la sento neanche di metterla lì come critica perché per il resto secondo me è composta bene. C'è una diagonale che mi porta dentro nell'immagine. L'orizzonte non è proprio in mezzo ma è un pochettino più su. A me sembra esposta bene e composta bene quindi non ho granché da dire su quest'immagine. E questa è stata scattata con una Canon EOS 60D quindi ci stiamo scaldando eh. Partiamo bassi e ci scaldiamo pian piano. Abbiamo qui sempre la 60D e qui abbiamo una pista di sci. Devo dire che a prima vista non mi dice granché questa immagine però guardandola più attentamente e questa secondo me è un bianco e nero sul serio invece. Guardandola più attentamente ci trovo dei significati perché vedo queste diverse dune innevate che si susseguono e la composizione devo dire secondo me è piuttosto piacevole. Dettaglio della pista mi pare anche di vedere due sciatori solitari che vengono giù. Io sono amante di questo tipo di paesaggi. A me personalmente piace. Trovo che sia una composizione appagante con questi chiaroscuri dati dal sole che si alterna sulle parti illuminate e meno illuminate di queste collinette innevate. Non è male, non è male. Andiamo avanti e qui abbiamo... Io non capisco esattamente che montagne sono. Vedo una cosa che non mi fa impazzire ovvero vedo una differenza cromatica tra le montagne in primo piano che mi sembrano con la neve assolutamente bianca le montagne sul retro invece mi sembra di vederle azzurre. Ora, che sia un raro caso di raggi UV può essere. Può anche essere che sia stato fatto di proposito, può essere che sia stato introdotto in post. Non so se sia possibile che fosse veramente così la scena quindi per questo mi affido poi al fotografo che magari ci darà delle lucidazioni nei commenti. Globalmente non è male anche se forse io avrei alzato ancora un pochino l'orizzonte perché nel cielo non c'è granché di appagante, mi sembra abbastanza vuoto. Era meglio secondo me far vedere più montagne ma forse c'era un ostacolo sotto che ce lo impediva. Facciamo una piccola pausa, se questo contenuto ti sta piacendo io ti ricordo qualora tu non l'avessi ancora fatto di iscriverti al canale cliccando il bottone qui sotto e adesso possiamo tornare alle nostre foto. Andiamo avanti e ragazzi qui non c'è bisogno di essere fotografi per capirlo questa è chiaramente stata scattata con un drone. Molto carina, bella la composizione, bel posto qui il posto ovviamente la fa da padrone perché senza essere lì questa non la fai. L'unica cosa che non mi fa impazzire sono le zone bruciate nelle nuvole proprio a perpendicolo sopra il campanile. Il drone, lo sappiamo, è un mezzo fotografico con un sensore diverso da quello delle nostre amate macchine fotografiche quindi abbiamo magari un po' meno versatilità quando cerchiamo di catturare la nostra scena ma appunto perché si tratta di un drone dobbiamo anche saperlo ed essere un pochettino elastici. Secondo me globalmente questa immagine va bene. Andiamo avanti e qui abbiamo un tramonto carino, suppongo io che sia un tramonto e siamo sempre con la Canon EOS 60D. Qui c'è un trattamento, non riesco a capire quanto forte però sicuramente c'è un trattamento perché secondo me i colori qui sono stati un po' rinforzati. Il che ci sta, bella la composizione con questo campo mi domando se non sarebbe stata più efficace avvicinandosi un po' di più a quel campanile solitario ma forse si perdeva il campo, si perdevano tutte queste balle di fieno e quindi perdeva di significato. Non sono sicuro che mi piacciano quegli rami molto scuri che entrano dal lato sinistro però pensandoci se non ci fossero probabilmente verrebbe a mancare quel framing e quindi sarebbe meno forte quindi no, tutto sommato mi hanno convinto, ci stanno. È un'immagine non potentissima però sicuramente ci sta e mi rendo conto che potrebbe essere la migliore angolazione che avevamo per riprendere questa scena quindi va bene. Andiamo avanti e qui abbiamo castello molto caruccio scattato in verticale perché la costruzione è a sviluppo verticale e devo dire che si presta molto bene perché abbiamo diversi piani di lettura abbiamo i cespugli davanti, quello che sembrerebbe essere un fossato il castello e la montagna con questi raggi di luce e le nuvole dietro sicuramente efficace, non la foto più bella del mondo però trovandosi in quella posizione, leggendo quella scena direi che è assolutamente appropriata. Andiamo avanti, altro castello allora ragazzi, questa chiaramente è una bella immagine io qui credo, e sono anche viziato dal fatto che le uso anche io queste cose credo di riconoscere un effetto di Luminar quindi forse quelle che abbiamo visto prima erano post prodotte con Lightroom questa potrebbe essere, anzi questa quasi certamente è post prodotta con Luminar perché mi sembra di riconoscere quei raggi di luce che entrano sul lato le ho usate anch'io, sono un effetto proprio di Luminar e può darsi che anche il cielo sia uno sky replacement fatto con Luminar? non lo so, possibile aspettiamo i commenti del fotografo qui sotto e ne parleremo tutti quanti insieme secondo me qui c'è della post produzione anche un pochettino più invasiva del solito ci sta perché l'immagine è bella, ha un bel contrasto, una bella vividezza quei raggi così prepotenti secondo me ci sta a utilizzarli per giocare però io mi sono reso conto molto molto presto che nelle mie immagini non li volevo una cosa del genere io non la volevo nelle mie immagini perché è evidente che è finta poi contraddicetemi se sbaglio poi ne parleremo nei commenti se sono veri mi mangio il cappello ma secondo me sono finti e uno tende a notarlo quindi per questo motivo io li eviterei andiamo avanti, qui abbiamo una foto di una bella Canon EOS 750D una bella macchinina fotografata su sfondo bianco fotografare qualcosa su sfondo bianco è un bel gesto tecnico secondo me però fotografare qualcosa di nero su sfondo bianco è abbastanza semplice la cosa veramente tricky è fotografare qualcosa di bianco su sfondo bianco lì sì che ci si diverte questa è una foto secondo me carina, abbastanza dimostrativa però non mi racconta sostanzialmente niente se non il fatto che abbiamo imparato a utilizzare il fondo bianco diciamo che forse non sono d'accordissimo sulla scelta della focale infatti qui mi sembra di vedere che è stata fotografata a 24 mm io ho un prodotto, una cosa di questo tipo me l'aspetto fotografata con un 85, con un 100 mm per evitare la distorsione data dal grand'angolo che infatti si vede in questa immagine che c'è un po' di distorsione secondo me quando fotografiamo prodotto non la vogliamo questa distorsione altra foto prodotto siamo sempre a 24 mm in questo caso distorsione quasi non ne vedo quindi in questo caso va benissimo se vogliamo fare foto prodotto su sfondo bianco sicuramente cimentarci con cose riflettenti o semi riflettenti come in questo caso può essere divertente ma anche impegnativo in questo caso a me sembra che sia fatto molto bene perché non vedo riflessi che mi disturbano sui prodotti quindi va assolutamente bene così l'unica cosa io qui vedo che c'è una caduta della luce dalla parte alta alla parte bassa dell'immagine è normale chiaramente se vogliamo lavorarci e renderla perfetta dovremmo, potremmo perché immagino che non sia stata fatta per lavoro ma per divertimento, potremmo cercare di uniformare la luce su tutto il fotogramma quindi aggiungere luce nella parte inferiore per andare a rendere bianco omogeneo tutto lo sfondo è un esercizio di stile, inoltre sul frontale, proprio sulle etichette a me sembra che manchi un po' di luce questo può essere voluto, possiamo averlo fatto apposta ma potrebbe anche essere un difetto dipende se è intenzionale oppure no personalmente se fosse un'immagine mia io avrei dato una toccatina di luce in più sul frontale delle etichette per illuminarle un pochino perché mi sembra che sia molto ben illuminata la boccetta però l'etichetta invece rimane un po' indietro magari è una scelta, magari ci si può lavorare andiamo avanti, qui mi pare di capire che siamo in Svizzera questo scatto vedendolo piccolo in miniatura non mi diceva niente invece vedendolo aperto non è male, mi sembra di vedere e attenzione ragazzi, qui stiamo scattando con la Canon EOS 1D Mark II quindi ammiraglia di casa Canon ovviamente le ammiraglie di tutte le case, non solo di Canon sono le macchine migliori su cui possiamo mettere le mani quindi questa dovremmo guardarla con particolare attenzione stiamo scattando col 50 mm a quanto pare lunghezza focale che io non amo per niente però in certi casi si presta molto bene vedete il 50 mm come ci fa tenere le verticali tutte belle dritte e abbiamo un fotogramma tutto pressoché a fuoco e abbiamo diversi piani di lettura perché abbiamo dei pedoni che camminano su diverse distanze e a me qui sembra di vedere un po' di recupero nelle ombre perché chiaramente qui c'è una gamma dinamica importante da tenere in considerazione abbiamo il cielo, abbiamo zone colpite dal sole e zone in ombra con gente vestita pure di scuro secondo me c'è un recupero sia delle alte luci che delle ombre e vedo anche un trattamento poi ne parleremo magari sbaglio però a me sembra di vedere un trattamento anche di color grading che devo dire carino ci sta assolutamente ben fatto per dare un look a me sembra un po' nostalgico quindi assolutamente ben fatto poi è una foto che non mi racconta chissà cosa anche perché non riconosco il luogo però sicuramente è ben fatta andiamo avanti qui abbiamo, qui torniamo invece sulla Canon EOS 60D qui abbiamo il campo da basket più colorato del mondo devo dire questo è uno scatto con una vibrance incredibile perché abbiamo dei colori sparatissimi da tutte le parti e siamo al limite perché ancora un 1% di saturazione in più e cominciava a disfarsi secondo me però siamo al limite che ancora ancora mi sembra che possa essere quasi naturale forse siamo un pelino sopra il limite però diciamo che non mi stona così tanto a me piace sempre la simmetria mi sembra una cosa carina perché deve essere una rappresentazione di questo campo da basket nella natura quindi c'è il contrasto tra questa roba super colorata e un ambiente in cui normalmente questi colori non si vedono perché è tutto verde e azzurro là dietro spero che ci si giochi anche in questo campo ce n'è uno anche sotto casa mia in cui ogni tanto io stesso vado a fare due tiri eh sì sono un ex giocatore attenzione qui abbiamo non so se sia lo stesso campo abbiamo un altro campo qui vi confesso che non riesco a capire che cosa è fatto in posta e che cosa no sono ragionevolmente sicuro che il cielo sia aggiunto in post produzione sono anche abbastanza convinto che i neon sul canestro siano aggiunti in post produzione non chiedetemi perché ma sono convinto che siano aggiunti magari mi sbaglio però secondo me sono aggiunti l'immagine ci sta non è che mi dispiaccia mi domando se funzionava anche senza diciamo che personalmente io ho una soluzione di questo tipo la eviterei perché diciamo che per me fotografare qualcosa che non era veramente così ormai ha poco senso io faccio la foto solamente se è rappresentativa della realtà mettere un neon dove poi realmente non esiste a me non dà alcun valore aggiunto e quindi mi domando se la foto non funzionasse anche senza andiamo avanti qui abbiamo una panoramica e qui siamo di nuovo con DJI devo dire considerato che è un drone gran bel lavoro bella gamma dinamica c'è forse un po' di perdita di dettagli nelle nuvole e in certi neri degli alberi però globalmente gran bella immagine si riescono a fare delle cose notevoli con questi droni chiaramente la prospettiva che siamo in grado di catturare con il drone è nuova inusuale siamo abituati a scattare dal livello del terreno qui invece siamo sopra quindi anche una fotografia che magari normalmente non è eccezionale scattata con il drone ci restituisce sempre una sensazione un po' superiore qui vi dico la verità io non so se l'avrei tenuta così ampia perché c'è una porzione molto abbondante sia sul lato destro sia sul lato sinistro dove c'è quasi niente sul lato sinistro tutta quella parte vuota dove c'è solo sentiero io forse l'avrei tagliata sul lato destro sì c'è una cima c'è un rilievo montuoso dietro gli alberi quello forse era importante tenerlo però secondo me nel centro della nostra immagine ovvero dove tra il bivio sul sentiero e la fine degli ski lift lì è concentrata tutta la scena io l'avrei ritagliata per dare più attenzione sulla parte centrale comunque per il resto una bella immagine andiamo avanti e qui abbiamo un castello e ora io mi rendo conto che sono viziato dal fatto di averlo usato Luminar io sono convinto che questo cielo sia uno sky replacement anche per via di quel parapendio perché io mi ricordo che nei cieli preimpostati di Luminar ce n'è uno con un parapendio e quindi adesso sono condizionato a pensare che questo cielo sia aggiunto in post produzione il che ci sta l'immagine è bella secondo me è molto forte come composizione e come momento catturato perché c'è questo questo parapendio certo che se fosse vera avrebbe un peso se fosse aggiunto avrebbe un altro peso quindi io spero di sbagliarmi e spero che sia vera così perché sarebbe un'immagine molto solida molto forte fatta così e attenzione ragazzi perché andando avanti vedo la stessa nuvoletta dietro questo castello quindi forse mi sbagliavo e quel cielo era assolutamente autentico quindi l'immagine di prima era molto forte questa potrebbe essere un'immagine carina però quei raggi che arrivano così da sinistra che sono chiaramente aggiunti con Luminar di nuovo io li toglierei perché un'immagine bella scattata per davvero con un trattamento anche efficace con quella roba sbattuta dentro mi richiama immediatamente a un ok è finto ok Instagram ok effetto wow artificiale io le farei sparire queste cose andiamo avanti qui immagino che questo sia drone sì infatti qui abbiamo una panoramica devastante questa forse è una 360 addirittura in cui vediamo tutta la vallata con paesino e castello dunque voi sapete forse vi ricordate che io faccio anche foto 360 quindi non sono nuovo a immagini srotolate diciamo così di questo tipo personalmente non mi piacciono nel senso che danno una prospettiva così realistica che diventa quasi descrittivo ma è difficile calarsi all'interno di un'immagine come questa in questo caso non è male perché le cose sono distribuite anche bene abbiamo le montagne sui due lati abbiamo il castello nel mezzo il paese da una parte le vigne dall'altro non è male il trattamento del colore è buono diciamo che secondo me un'immagine come questa difficilmente la stampi ecco andiamo avanti qui abbiamo di nuovo la Canon EOS 60D con un 105 mm e qui abbiamo un bello sfocato sullo sfondo e abbiamo questi fiori che scattati a f4.5 sono perfettamente a fuoco i fiori con lo sfocato dietro e questa direi che è perfetta a livello tecnico è assolutamente perfetta di nuovo non è una foto potentissima che emoziona o evoca chissà cosa però sicuramente a livello tecnico è gestita molto bene e qui ci tuffiamo nel macro con un 209 mm chissà che lente era questa 209 mm non ho idea di che lente fosse e stiamo scattando a f5 devo dire nitidezza notevole sui petali e sulle foglie di nuovo f5 quindi è stata calcolata la profondità di campo giusta desiderata per avere tutto il nostro fiore a fuoco e lo sfocato dietro fatto molto molto bene secondo me di nuovo le foto macro soprattutto con questo tipo di impostazione difficilmente mi emozionano però a livello tecnico sicuramente fatta molto bene e torniamo a gustarci una fotografia fatta con la nostra amata Canon EOS 1D Mark II qui devo dire l'inquadratura è bellissima questo framing con le foglie è potentissimo qui credo ce ne accorgiamo tutti subito che c'è uno sky replacement e ce ne accorgiamo per due motivi il primo è che intorno alle foglie io vedo dell'azzurro quindi probabilmente il cielo era azzurro o grigio più azzurro probabilmente perché vedo che c'è il sole sul castello ed è stato aggiunto un tramonto il secondo motivo è che per la direzione della luce che c'è nel tramonto sembrerebbe che il sole stia tramontando dietro il castello ma noi vediamo che il castello invece è illuminato dal lato sinistro per questo motivo questa foto secondo me è un'occasione persa un'occasione persa perché è molto bella la composizione è scattata bene va tutto benissimo però non è neanche tanto il fatto di aver sostituito il cielo anch'io lo faccio ogni tanto di sostituire il cielo però sostituire un cielo dove sembra che ci siano due soli uno davanti e uno dietro fa capire immediatamente a un osservatore anche inesperto che c'è qualcosa che è stato magheggiato e questo è un peccato perché a questo punto uno poi si domanda ma il castello sarà vero o sarà fatto con l'intelligenza artificiale ma le foglie sono vere o sono aggiunte con paint e quindi è un peccato io questa l'avrei vista molto meglio col suo cielo originale poi per il resto il trattamento dell'immagine è anche bello la post produzione la color correction va anche bene peccato per quel cielo io quello non l'avrei messo e forse forse siamo ancora in tempo perché forse c'è ancora l'originale e quindi si può andare a ripescare l'originale e eventualmente postare quella molto bene amici abbiamo terminato le immagini a nostra disposizione io vi chiedo vi faccio una domanda molto molto seria voi l'avreste capito quali immagini erano scattate con l'ammiraglia e quali erano scattate invece con la 60D io vi dico onestamente che me ne sarei accorto forse più per il trattamento che è stato riservato alle immagini perché mi sembra che quelle scattate con l'ammiraglia abbiano avuto un po' di color grading un po' di attenzione in più può essere mentre quelle scattate con la 60D mi sembrano un po' più lasciate al naturale però quello era l'unico indizio perché per il resto da queste angolazioni con queste ottiche io se me le avessero fatte vedere affiancate non credo che avrei indovinato quali erano state scattate con un'ammiraglia mentre quelle scattate col drone sono un po' più difficili mentre quelle scattate col drone sono un po' più facili da identificare per l'angolazione se non altro perché per fare certe foto con una fotocamera dovremmo lanciarla in aria e quindi lo capiamo quali sono fatte col drone lo capiamo secondo me dalla gamma dinamica e dal fatto che sono panoramiche perché per il resto a questa a questa perché per il resto con queste proporzioni anche lì non è facilissimo capirlo una fotocamera anche eccezionale con un bel grand'angolo ma da quella distanza ha una resa che tutto sommato si allinea un pochino a quella di un drone vediamo veramente la differenza quando andiamo sui dettagli quindi anche lì non sarebbe stato facilissimo da identificare non fosse stato appunto per l'angolazione molto bene a questo punto io direi fatemi sapere in un commento che cosa ne pensate qual è la vostra preferita personalmente a questo punto la mia preferita è quella fatta col 50 mm nella viuzza in Svizzera quella con la bandiera della Svizzera quella è la mia preferita perché mi sembra il gesto tecnico più semplice di tutti e pure quello più efficace avrebbe potuto vincere l'ultima quella del castello non fosse stato per quel cielo sostituito avrebbe potuto vincere quella fatemi sapere qual è la vostra preferita se volete sapere come partecipare riguardatevi il video dall'inizio perché l'ho già detto ricordatevi anche di iscrivervi al canale così rimanete aggiornati sulle prossime puntate e io vi do come sempre appuntamento al prossimo video e io vi do